L'epigrottidectomia è una procedura chirurgica che viene indicata soprattutto in patologie quali retroversione dell'epigrottite e o intrappolamento dell'epigrottide. È stata descritta anche per patologie oncologiche come il controsarcoma o sarcomi dell'epigrottide stessa. La patologia dell'intrappolamento dell'epigrottide è una patologia per lo più emergente che colpisce prevalentemente pazienti anziani o adulti d'olicocefali, quindi non sono pazienti brachicefali con sindrome ostruttiva delle prime vie risperatorie, ma hanno ugualmente una sindrome ostruttiva dovuta di stress inspiratorio con difficoltà inspiratoria e con sintomatologia riconducibile a stridore. In merito a questo tipo di patologia descritta per la prima volta da Leonard diversi anni fa, nel 1988, avremo un powerpoint o delle lectures in merito proprio all'intrappolamento dell'epigrottite, all'ipertrofia della mucosa epigrottidea che causano questo tipo di malattia. sono colpiti prevalentemente chihuahua, beagles, meticci, rashauns, poodles. La sintomatologia alcune volte è ingravescente e crea delle vere e proprie difficoltà respiratorie fino a dover intervenire di urgenza per distress di tipo inspiratorio. La diagnosi si esegue tramite una fluoroscopia, vedrete tutto questo in dettaglio nelle lectures, e la tecnica chirurgica è quella evidenziata. In questo caso abbiamo utilizzato un device, l'Airplasma, che è descritto per la stafiloplastica nei pazienti brachicefali, è un device ad alta tecnologia che utilizza trasformando l'aria in un bagliore. Questo bagliore ha un'induzione termica molto bassa e di conseguenza riduce l'edema post-operatorio. I pazienti sottoposti a questo tipo di chirurgia con la diagnosi ben da fatta hanno un miglioramento clinico nell'immediato post-operatorio. Nel dubbio diagnostico di non poter eseguire una fluoroscopia, possiamo eventualmente valutare, come si vede all'inizio del video, tramite una pressione sull'epigrottide che ci darà l'impressione di non essere più tonica, e questo è dovuto alla sua patogenesi ancora del tutto sconosciuta, ma probabilmente di denervazione delle nervi paralleli all'aringeo ricorrente. Nel dubbio di una patologia si può eventualmente eseguire, e vedremo su un altro video, una epiglottido-pessi e quindi valutare tramite diagnosi ex juvantibus se con l'aiuto della pessi sulla base della lingua dell'area epiglottidea si ha un miglioramento della sintomatologia. Se si dovesse verificare un miglioramento della sintomatologia con diminuzione dello stress inspiratorio e quindi di stress di tipo clinico paragonabile a stertore, allora possiamo eseguire successivamente una epiglottidectomia.